In questa video lezione noi analizzeremo il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo Galilei. Cominciamo dalla storia del libro, come è nato quel libro. Alcune cose di quelle che diremmo in questa prima parte della video lezione le abbiamo già affrontate in un'altra lezione intitolata Processo a Galilei. Ma in questo caso noi ci soffermeremo proprio sul libro del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo andando a vedere la sua genesi e andando a vedere poi quali problemi ha creato al suo autore. La nostra storia comincia nel 1623. Il 1623 è un anno importantissimo perché sale sul soglio pontificio il cardinale fiorentino Maffeo Barberini. Diventa Papa col nome di Urbano VIII. E questo Papa era un estimatore degli accademici dei vincei e anche un estimatore di Galilei. Ed era anche un avversario di una parte dei gesuiti. Per cui Galilei pensa che la salita al soglio pontificio di Urbano VIII sia la condizione ideale per tornare a discutere di universo. Galilei, ricordiamo, nel 1616 aveva ricevuto una munizione da parte del cardinale Bellarmino a non trattare più la materia copernicana. Proprio in quest'anno ritorna, nel 1623, a discutere della materia con il saggiatore. Ma è la salita al soglio pontificio di Urbano VIII che permette a Galilei di coltivare delle speranze per continuare a discutere e a dimostrare soprattutto la validità del sistema copernicano. Galilei, infatti, progetta un'opera che voleva essere fondamentalmente scritta contro i sostenitori del sistema tolemaico. Certo, venivano incluse anche quelle persone che in qualche modo difendevano a spada tratta alcune affermazioni presenti nella Bibbia e quindi nella Sacra Scrittura. Però, di fatto, l'intento grileano era appunto quello di porsi contro quei scienziati che ancora alla sua età difendevano il sistema tolemaico. E così comincia a progettare un'opera che, di fatto, è conclusa nel 1630. Ma ora, ovviamente, comincia il lavoro di pubblicazione perché è vero che il Papa, in qualche modo, è lo sponsor di quest'opera di Galilei però bisogna che Galilei debba rispettare determinate caratteristiche perché l'opera possa ricevere l'imprimato e quindi essere stampata. E così, dal continua discussione che Galilei ha avuto non solo col Papa ma probabilmente anche con ambienti vicini al modo di pensare del Papa Galilei è costretto ad apportare alcuni cambiamenti al progetto che aveva così delineato fino al 1630. In particolare un intervento sul proemio e questo aspetto lo vedremo tra poco un intervento sulla conclusione dell'opera e la cosa più interessante è un intervento importante sul titolo perché Galilei voleva intitolare la sua opera dialogo sopra il flusso e il reflusso del mare perché Galilei era convinto tesi, in questo caso errada che la riflessione sulle maree fosse un argomento fortissimo per dimostrare la validità del sistema copernicano. Non entriamo per ora in questo aspetto specifico ci interessiamo ancora il titolo il titolo deve essere cambiato e così il titolo diventa Dialogo di Galileo Galilei Linceo dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo Ptolemaico e Copernicano. Un titolo neutro? Apparentemente. In effetti se noi analizziamo appunto l'opera questo titolo è quello che meglio si presta per ricevere appunto l'imprimatur nel 1632 a Firenze e cioè questo titolo sembra essere il titolo più tranquillo, più sereno che possa in qualche modo mettere d'accordo tanto i sostenitori del sistema tolemaico quanto quelli del sistema copernicano e così nel 1632 riceve da parte dell'inquisizione di Firenze l'imprimatur perché l'opera possa essere stampata. In effetti se noi andiamo ad analizzare un po' da vicino questo titolo e ci torneremo anche dopo l'opera di Galilei si presenta come un'opera davvero straordinaria e molto diversa dalle opere che a quell'epoca circolavano. Innanzitutto si tratta di un dialogo quindi Galilei decide di non trattare la materia attraverso un trattato cioè attraverso un'opera in cui ci sia un ipsidixit quindi un personaggio che parla e che non fa altro che esporre semplicemente le proprie tesi e le proprie argomentazioni. Quello invece di Galilei vuole essere appunto una forma dialogica per giunta non in latino come erano invece i trattati scientifici dell'epoca ma in volgare perché potesse avere una diffusione ancora maggiore e fuori anche dall'ambito strettamente accademico. Abbiamo detto che Galilei scrive l'opera sia per contestare i sostenitori della teoria tolemaica sia anche per in qualche modo convincere i semplici lettori delle sacre scritture cioè non gli scienziati di professione. In particolare la scelta del dialogo è legata a una tradizione platonica fondamentalmente nella quale tradizione nei dialoghi platonici noi avevamo appunto la certezza che la verità potesse uscire attraverso l'intreccio e l'incrocio e la discussione dei diversi opinioni dei diversi punti di vista. Quindi il dialogo per Galilei voleva essere questo cioè una sorta di discussione allargata e poi vedremo con chi per mettere in evidenza appunto le diverse opinioni e poi per far prevalere quella più logica in un certo qual modo. Quindi come vedete anche quando si va all'idealogo neutro come poteva essere questo titolo di fatto Galilei era convinto che poteva convincere della validità della teoria copernicana semplicemente esponendola e quindi facendo notare l'assurdità dell'altro sistema. Un altro elemento interessante è il fatto che nel titolo siano presenti due massimi sistemi del mondo qui la parola mondo perché bisogna intenderla come universo insomma come era tipico della trattatistica dell'epoca cioè il sistema mariziotelico-tolemaico e quell'altro sistema copernicano ma ne era escluso uno cioè quello di Brahe il sistema appunto di Tico Brahe cioè quel sistema spesso sponsorizzato anche dai gesuiti che voleva essere un sistema intermedio tra il geocentrico tolemaico e l'eliocentrico copernicano. Ecco Galilei che non ha mai preso in considerazione questo sistema di fatto già nel titolo della sua opera maggiore esclude il sistema sponsorizzato da una gran parte del mondo cattolico quindi a ben leggere questo titolo già possiamo dire che il titolo non era assolutamente neutrale non era assolutamente un titolo di quelli che poteva ricevere velocemente un imprimatur come invece ha ricevuto. La storia del libro la conosciamo qualche mese dopo già nel luglio del 1632 il Papa ordina la sospensione delle vendite del libro stesso l'autore è convocato a Roma per un processo processo che comincia nel 1633 nel giugno del 1633 ci sarà appunto la viura di Galilei e nello stesso 1633 dopo la viura il libro sarà inserito nell'indice dei libri proibiti ed ora andiamo a vedere la struttura del libro andiamo a vedere in particolar modo i protagonisti i tre sono i protagonisti cominciamo da Filippo Salviati si tratta di un personaggio realmente esistito vissuto tra il 1583 e il 1614 accademico dei lincei scienziato amico di Galilei copernicano quindi difensore della teoria copernicana dall'altra parte il padrone di casa Giovanni Francesco Sagredo anche egli è un personaggio realmente esistito è vissuto tra il 1571 e il 1620 è un nobile veneziano ed è un curioso di scienze rappresenta il vero pubblico a cui si rivolgeva venirei cioè non gli specialisti ma persone curiose di scienze che potevano essere tranquillamente portate alla parte della teoria copernicana semplicemente seguendo un ragionamento logico senza quindi avere quelle conoscenze specifiche che uno scienziato ha e che una persona invece semplicemente intenditor di scienze può non avere e poi l'ultimo semplicio è l'unico personaggio immaginario è un aristotelico il termine farebbe riferimento anche a una semplicità di ragionamento che non è coerenza e coesione logica ma probabilmente è anche un ragionamento elementare usando questo aggettivo nel senso peggiorativo negativo del termine quindi si tratta del sempliciotto talvolta lo sciocco che fa insomma non sempre una bella figura all'interno del dialogo importante questo che abbiamo detto su semplicio perché proprio semplicio sarà quello che chiuderà il dialogo sopra i due massimi sistemi e vedremo come quella conclusione sarà fondamentale per l'esito del libro andiamo ora a vedere dove si svolge questo dialogo l'ambientazione è il palazzo sagredo sul canale grande a venezia il tempo un dialogo si svolge in quattro giornate l'indicazione della giornata è di fatto l'omaggio al decameron di boccaccio l'argomento l'argomento generale naturalmente in tutte e quattro le giornate sono i pro e i contro la teoria ediocentrica ora andiamo più nello specifico e cominciamo dal proemio ricordo che oltre al titolo il proemio e la conclusione erano quelle parti cui il papa aveva avuto qualcosa da dire e quindi Galilei era stato costretto a intervenire nel proemio due sono di fatto i destinatari il primo quello canonico quello ufficiale diciamo i censori a cui si rivolge Galilei magnificando il salutifero editto del 1616 si tratta del famoso editto del carriale Bellarmino al quale si impediva la riflessione la discussione sul sistema copernicano il sistema copernicano era praticamente messo al bando ovviamente attraverso un procedimento ironico Galilei fa capire come questo editto abbia poco di salutifero cioè non sia stato un editto che abbia portato un vantaggio però nel salutifero noi dovessimo lasciare la traduzione senza ricorso l'ironia dovremmo parlare di un editto che ha portato dei vantaggi enormi nella discussione scientifica ovviamente dobbiamo intendere il contrario il secondo destinatario è il discreto lettore cioè tutti quanti noi il vasto pubblico quello a cui si rivolgeva Galilei non quelli di scienziati di professione queste persone devono essere dei lettori discreti cioè devono saper discernere devono saper ben interpretare le affermazioni che vengono fatte nel libro in particolar modo devono comprendere come tutto il libro è sotteso dall'ironia per cui le affermazioni vanno ovviamente soppesate e vanno interpretate nella giusta dimensione cioè utilizzando l'ironia al contrario di quello che l'autore voleva in quel momento dire ovviamente non tutte le affermazioni ma chiaramente quelle fondamentali quelle principali andiamo a dare uno sguardo veloce agli argomenti delle quattro giornate per la verità non è facilissimo individuare i quattro argomenti perché in tutte e quattro le giornate si discute dei temi che sono più cari a Galilei però possiamo dire che il tema fondamentale della prima giornata è il tentativo di dimostrare falsa la tesi aristotelica secondo la quale il mondo dei cieli è eterno e immutabile incorruttibile perfetto etereo mentre la terra è soggetta a cambiamento Galilei facilmente dimostra che di fatto questo è possibile vederlo attraverso il cannocchiale infatti guardando la luna si vede la luna che è caratterizzata da crateri e da una morfologia che è molto vicina a quella della terra nella seconda giornata vengono proposte le tesi favorevoli e quelle contrarie al moto di rotazione della terra per la verità questa seconda giornata è molto famosa per due episodi strettamente legati l'uno all'altro il primo è quello quasi a inizio della seconda giornata il famoso aneddoto del notomista cioè del il racconto dell'anatomista e su questo ho fatto un video che ho spiegato in maniera specifica quanto succede quindi la storia di questo anatomista che riesce ad aprire il corpo e vede qualcosa che è simplicio nega facendo riferimento naturalmente all'ipsidixit ecco il secondo argomento di fatto un argomento importante della seconda giornata oltre ovviamente all'argomento scientifico è quello degli ipsidixit cioè il tentativo di ridicolizzare il principio di autorità e cioè Aristotele ha detto quindi col fatto che abbia detto Aristotele Simplicio va a negare anche quello che materialmente che vede con i suoi occhi quindi un procedimento ovviamente completamente lontano dal metodo scientifico di Galilei cioè l'osservazione di fatti che dovrebbe poi portare a una riproduzione in laboratorio comunque insomma una tesi scientifica è invece Simplicio anche se vede dentro il corpo di questa persona sezionata qualcosa che Aristotele negava col fatto stesso che comunque Aristotele ha detto nel suo libro ha ragione Aristotele e non hanno ragione gli occhi di Simplicio la terza giornata discute il moto della terra attorno al sole qua già si introduce il discorso delle maree approfittando di un aneddoto cioè di un Simplicio che fa tardi perché c'era marea bassa sul canale grande e ha difficoltà con la sua gondola ad arrivare al luogo del dialogo il quarto libro invece è incentrato tutto sul moto delle maree che secondo per lei sarebbe stata la prova inconfutabile della validità del sistema copernicano e arriviamo alla conclusione e abbiamo detto che il titolo il proemio la conclusione erano quelle sezioni su cui si è appuntata la necessità di correzione da parte di Galilei e andiamo a vedere che cosa si dice nella conclusione di fatto si discute dell'argomento teologico cioè Urbano Ottavo avrebbe concesso l'imprimatoro al libro nel momento stesso in cui per quanto calcoli precisi e corretti fatti da uno scienziato questi calcoli comunque non potevano conoscere la vera essenza del mondo che era un mistero divino e questo argomento teologico viene così riproposto nella conclusione di questo dialogo è impossibile dice Simplicio attenzione questo è importante questa affermazione è fatta da Simplicio è impossibile vincolare la sapienza divina alla fantasia particolare dello scienziato ecco Simplicio sta abbandonando il palazzo di Segredo si sta avviando verso la sua gondola e commenta così queste quattro giornate quindi ecco abbiamo discusso abbiamo discusso di tante cose ma di fatto quello su cui abbiamo discusso è pura fantasia il mistero della sapienza divina è talmente fitto che nessun grande bravo scienziato può naturalmente spiegarlo completamente ma proprio la conclusione ha generato problemi seri per lo stesso autore perché questa conclusione che poi era la conclusione che voleva Urbano Ottavo è messa in bocca a Simplicio possiamo dire lo sciocco dei tre dialoganti il personaggio che diciamo fa figure abbastanza puerili di fronte ai ragionamenti scientifici portati avanti da Salviati e corroborati da Sagredo e quindi il Papa quando legge questa parte finale del libro si specchia in Simplicio è come se vedesse se stesso in Simplicio quindi il personaggio forse meno autorevole di tutto quanto il dialogo ed ecco che il favore del Papa unito però ad altre situazioni in periodo storico momento particolare che il Papa stava vivendo ecco che il favore del Papa si trasforma in ira di Urbano Ottavo che decide di ritirare il libro e di portare Grigali a processo nella parte finale di questa video lezione noi ci interesseremo dell'aspetto più strettamente stilistico dell'opera e proveremo a tirare delle conclusioni dell'opera stessa cominciamo a vedere la lingua Gailei ha scelto l'avevamo già detto all'inizio di questa video lezione come lingua del suo dialogo il volgare quindi non il latino che Gailei ha usato soltanto nel Siderius Nuncius ma il volgare perché il pubblico deve essere il più vasto possibile il pubblico deve incarnare non tanto Filippo Salviati cioè gli scienziati ma di fatto deve incarnare più quelli che si riconoscono in sagredo cioè i curiosi l'intenditor di scienza e quindi quelle persone che soltanto dotati di un minimo di ragione possono ovviamente comprendere anche cose che non riguardano lo specifico le proprie competenze specifiche altro elemento importante che Galilei prende da Machiavelli il ragionamento dilemmatico quindi il procedere ponendo due argomenti due problemi e soprattutto l'esclusione della doppia della doppia verità cioè dei due problemi posti solo uno sarà vero e l'altro evidentemente sarà falso e non come voleva un certo tipo di ragionamento soprattutto in ambito ecclesiastico che entrambi potevano in qualche modo essere veri quindi un ragionamento in cui una parte di ragionamento esclude ovviamente l'altra il rigore argomentativo ovviamente nel senso che alla base del ragionamento ci deve essere un rigore argomentativo il delineare in maniera chiara la tesi e sopportare la tesi con argomenti che siano coerenti con quanto detto tutto questo naturalmente porta secondo che lei il lettore a convincersi del bene che di quel di quanto sostenuto appunto da chi sta parlando e soprattutto la scelta non di nomi derivazione latina o greca ma nomi comuni inseriti in un contesto scientifico quindi Galilei ha preso per la sua lingua per la sua nuova scienza nomi comuni nomi che quindi insomma potevano essere di facile comprensione per la stragrande maggioranza del pubblico e gli ha dato a questi nomi appunto una sfumatura lessicale per collocarli appunto in un ambito più prettamente scientifico questa è stata una grande straordinaria rivoluzione che Galilei ha fatto nel contesto linguistico di fatto fondando il lessico scientifico in Italia avevamo quasi all'inizio della video lezione sommariamente trattato il discorso del dialogo soprattutto in contrapposizione a una modalità di esposizione delle teorioscientifiche dell'epoca oggi e ora insistiamo su questo aspetto perché Galilei sceglie il dialogo in quanto nel dialogo sono rappresentati diversi punti di vista e il lettore diventa un vero e proprio arbitro di questa di questa contesa argomentativa perché di fatto può scegliere ascoltando i pro e i contro comunque tesi contrapposte e poi il dialogo è sicuramente è un genere una forma che intrattiene molto di più i lettori piuttosto che una trattazione con una sola voce monologica che appunto parla da un metaforico pulpito per appunto spiegare agli altri come vanno le cose il dialogo è un po' più teatrale quindi anche la scelta del palazzo sagreto come ambientazione permette proprio di vivere con maggiore vivezza appunto questa opera proviamo a tirare le conclusioni perché questo libro è andato a finire nell'indice libri proibiti perché questo libro nel 1633 e anche un poco dopo è ritenuto è stato ritenuto un libro pericoloso lo accennavamo anche in altre video lezioni però di fatto che lei con questo libro e anche con il suo con tutta la sua diciamo con le altre sue opere vuole sancire un principio cioè l'autonomia della scienza la scienza non ha bisogno di nient'altro per arrivare alle proprie conclusioni quindi la separazione tra la scienza e la religione la religione che si interessa l'aspetto morale la scienza che si interessa della natura l'autonomia della scienza la scienza che risponde soltanto a leggi e a principi che le stesse si è date le sacre scritture servono per spiegare come si va in cielo la scienza deve spiegare che cos'è il cielo certamente una delle caratteristiche presenti non soltanto nel dialogo ma anche nelle altre opere di lei una fiducia totale completa che lo scienziato riponeva nella ragione della scienza per lui ovviamente il ragionamento rigoroso frutto dell'osservazione sistematica della natura è l'elemento essenziale per convincere qualsiasi persona della giustezza delle proprie affermazioni e l'ultimo aspetto che forse è quello più tra virgolette scandaloso di tutto il libro quello che ha creato ovviamente più problemi e cioè Galilei è convinto che la ragione può rendere l'uomo libero libero che cosa libero dal principio di autorità libero dall'ipsed exit libero cioè dai libri scritti prima libero da quello che il mondo antico che veniva accettato tu curo senza nessuna possibilità di discussione ecco per Galilei la ragione ha questa funzione fondamentale rende l'uomo un po' più libero e per questo questo libro è un libro pericolosissimo per questo il libro non doveva circolare per questo il libro è stato ritirato per questo il libro è finito nell'indice libri proibiti e per questo l'autore ha subito un processo